Francesco Giuseppe Manna, 57 anni, agente immobiliare, sindaco uscente, candidato con la lista Palau 2023-2028, si è presentato ieri sera agli elettori tenendo un pubblico comizio in Piazza Due Palme. Ha parlato dell'attività svolta in questi cinque anni, del programma, ed ha presentato la lista dove figurano gran parte dei presenti alle elezioni del 2018, lista questa composta da 5 donne su 12 candidati. Allora è una ricandidatura voluta dal mio gruppo, una ricandidatura che serve per poter portare a compimento il mandato di questi cinque anni precedenti, un progetto il nostro che si articola su una serie di punti focali che abbiamo iniziato cinque anni fa, il lavoro, la casa, la portualità, il sociale e il turismo. Una serie di punti nei quali nel nostro programma è stato ben illustrato ai cittadini che cosa oggi abbiamo necessità di concludere, che cosa abbiamo realmente fatto e soprattutto un programma che focalizza l'attenzione del Paese sulla crescita turistica. Cosa c'è ancora da completare? Tantissime cose da dover completare, anche perché purtroppo due anni e mezzo di pandemia Covid non ci hanno favorito in quella che è stata la possibilità di arrivare a compimento di tutte le programmazioni che abbiamo avviato. Di certo stiamo in questo momento lavorando per una crescita e un miglioramento di quella che è l'area portuale e soprattutto stiamo programmando una nuova ripianificazione.